il freddo di marzo è perfetto per costruirsi un nido accendere un cammino e mergersi nella lettura ho trascorso lunghi momenti del mese appena passato viaggiando tra le pagine di diversi libri sfogliando storie scoprendo nuovi mondi ora sono pronta a condividere con voi le mie letture di marzo e le emozioni che mi hanno trasmesso a questo aggiungo che ho diviso il video in due parti per non renderlo troppo lungo e noioso e in questo video parlo dei primi cinque libri letti e ascoltati e niente accomodatevi preparatevi ad innamorarvi di nuovi personaggi il viaggio comincia e dunque buon ascolto tre piani di es col nevo è un libro brillante che offre una prospettiva unica sulla società israeliana contemporanea l'autore narra le vicende degli abitanti di un condominio di tel aviv disposto su tre piani dove ognuno di esso rappresenta un punto di vista differente soprattutto sulle paure degli errori umani quindi l'autore si adatta a ogni situazione proponendo una diversa narrazione il romanzo esplora temi universali come la relazione tra passato e presente la natura delle relazioni umane e l'identità personale con uno stile fluido e coinvolgente il passato ha una forza potente che influenza il presente e il futuro spesso i ricordi possono plasmare la visione del futuro e determinare il modo in cui viviamo la nostra vita nel libro di nevo i personaggi sono costantemente tormentati dai loro ricordi e dalle loro esperienze passate e cercano di trovare un senso e una comprensione nel loro presente il passato non solo influenza il modo in cui viviamo il mondo attuale ma anche il modo in cui ci relazioniamo con gli altri nevo ha una grande abilità nel descrivere la vita quotidiana rendendo i personaggi e le loro azioni molto credibili soprattutto dal punto di vista psicologico tracciandone tutte le emozioni il primo piano si concentra su una giovane coppia e su come cercano di adattarsi alla vita nella grande città con un padre troppo attento alle fragilità altrui da non vedere le proprie il secondo piano presenta i punti di vista degli altri abitanti dello stabile di una madre troppo presente fino ad annullare se stessa infine la terza parte segue la storia di un giudice in pensione che in un certo senso rappresenta la somma degli abitanti dell'edificio e dei loro problemi nevo utilizza la metafora dei tre piani per rappresentare la complessità e la contraddittorietà dell'essere umano creando un'opera interessante un libro che io consiglio allegro ma non troppo due mini saggi in un piccolo libro un pamphlet quello scritto da carlo cipolla storico ed economista che mi ha aperto un mondo l'ironia e la capacità comunicativa dell'autore è entusiasmante allegro ma non troppo è un libricino divertente ironico che è un intelligente dimostrazione di come si possono utilizzare l'umorismo per costruire e criticare modelli teorici semplici basati sul principio causa effetto il primo saggio è il ruolo delle spezie e del pepe in particolare nello sviluppo economico del medioevo una parodia della storia economica e sociale medievale attraverso il commercio delle spezie in particolare appunto del pepe che ha avuto ruolo significativo nello sviluppo economico e sociale del medioevo attraverso questo concetto l'autore ripercorre le tappe più importanti della storia rendendola interessante e intrigante nel secondo saggio le leggi fondamentali della stupidità umana cipolla sostiene che la stupidità umana può essere compresa attraverso l'applicazione di 5 leggi fondamentali e che queste leggi sono universali e si applicano a tutte le società e cultura queste sono l'ignoranza la maggior parte delle persone non conosce i fatti e le informazioni di base che sono necessarie per comprendere e navigare il mondo poi c'è l'imbecillità alcune persone sono intrinsecamente stupide e non hanno la capacità di comprendere e apprendere poi c'è la stupidità alcune persone scelgono di essere stupide adottando comportamenti che vanificano le loro potenze intellettuali l'uomo medio la maggioranza delle persone tende a seguire il comportamento della massa anche se questo comportamento è stupido minoranze intelligenti una piccola minoranza di persone estremamente intelligente in grado di influire sulla società in modo significativo allegro ma non troppo è una rappresentazione negativa dell'umanità è un libro illuminante per la sua ironia e la sua capacità di descrivere alcune dinamiche sociali in modo divertente e memorabili una piccola perla questo è un libro che ricevo per regalo al mio compleanno non conoscevo l'atore non gli avrei dato un euro eppure è un libro che mi ha fatto scoprire un mondo e si tratta di il figlio di due madri di massimo bontempelli questo è stato scritto durante la guerra è ambientato in un futuro immaginario in un italia post fascista dove la società è governata dalla dittatura la trama del romanzo ruota intorno a un evento inspiegabile il figlio di una famiglia dell'alta borghesia romana assume la personalità di un altro bambino morto sette anni prima avvenimento che sconvolge tutti i personaggi del romanzo che cercano di dare una spiegazione razionale agli eventi soprannaturali poi accettano che essi siano parte della normalità ciò che rende il figlio di due madri un romanzo unico nella letteratura italiana è la tecnica utilizzata dall'autore il realismo magico bontempelli combina elementi realistici con elementi fantastici o sovrannaturali creando una narrazione che si muove tra realtà e fantasia in questo modo il romanzo diventa un mezzo per trasformare la realtà e la società invitando il lettore a lasciarsi andare alla fantasia e ad accettare gli eventi senza cercare di dare loro una spiegazione razionale ma il figlio di due madri non è solo un romanzo che invita alla fantasia che bontempelli esplora anche tematiche importante come l'identità e la diversità mediante la figura del bambino che ha due madri biologiche e che lotta per trovare la sua vera identità questo libro lo definirà una denuncia alla società tradizionale che attraverso la sua rigida struttura di valori e aspettative non riesce a riconoscere e accettare la diversità e l'unicità dell'identità personale impedendo così ai singoli individui di esprimere liberamente se stessi devo ammettere che è proprio una bella scoperta questo libro è veramente una piccola perla e si tratta dell'uomo vestito di nero di Stephen King in questo libro ritorna il tema tanto amato da King che è la scrittura come terapia il racconto ispirato e dedicato al giovane brown di Nathaniel Hawthorne con le pronunce faccio schifo proprio di più comunque questo racconto è presente nel libro Gary decide di affrontare un evento accaduto durante la sua infanzia scrivendo la sua storia una ferita ancora aperta dopo tantissimi anni una paura con la quale fare i conti una volta per tutte e ci troviamo in un'america rurale le immagini che ci mostra King che sono quelle di una giornata perfetta in un mondo ancora incontaminato per ligare il bambino ed è proprio in tutta questa perfezione mentre il bambino va a pescare al fiume che appare l'uomo nero all'interno del libro troviamo il King che affronta temi come il male la fede della perdita dell'innocenza il misterioso uomo vestito di nero è l'incarnazione del diavolo si presenta come un essere malvagio che tormenta e manipola Gary fino all'età adulta il racconto offre una riflessione sulla natura del mare non solo a livello personale ma anche a livello globale e in tutte le sue forme fisica mentale spirituale facendoci riflettere come il male possa essere presente in modo sottile e subdolo nel nostro quotidiano mettendo a rischio la fede dell'essere umano e King narra di un uomo innocente ma attraverso le azioni dell'uomo vestito di nero egli perde la sua innocenza e diventa un uomo cinico e scettico processo di perdita dell'innocenza e come ciò possa influenzare una persona un impatto forte indice che l'innocenza perduta non possa essere recuperata altro tema importante trattato è l'elaborazione del lutto Gary bambino quando incontra il diavolo appena perso il fratello per una puntura d'ape ed è proprio nel diavolo che raffigura il senso di colpa di chi rimane di chi è sopravvissuto alla morte ed è proprio qui che il lettore si perde tra finzione e realtà una linea sottile dove l'autore lascia spazio all'immaginazione e all'interpretazione King è il maestro di questo King scrive un vero e proprio capolavoro le immagini si fissano nella mente del lettore provocando una vertigine talmente profonda che sia la sensazione che l'aria venga a mancare il compimento si raggiunge quando le parole sono accompagnate dalle illustrazioni di Anna e Gianna che riesce a mostrare visivamente il lato scuro e l'inquedutile che abita la narrazione l'uomo vestito di nero racconto suggestivo e scritto divinamente King riesce a rappresentare la giovinezza chiamato a confrontarsi con potenze indomabili la salvezza è possibile solo nella casualità della fortuna e non nella capacità del singolo un malessere che rimane appanagliato nel profondo più scuro dell'essere umano fino alla vecchiaia dove ormai tutto sembra perso per chi non ha avuto l'opportunità di avere questo libro di leggere questo questo libro e io consiglio di recuperarlo ma non solo per le appassionate l'inverno dei leoni è la seconda opera della saga del florio scritta da stefania auci è un romanzo che ci trasporta nella sicilia del XIX secolo dove la famiglia florio una delle più potenti e ricche dell'isola si trova ad affrontare nuove sfide l'autrice dopo averci presentato i protagonisti la storia della famiglia né i leoni di sicilia narra come la dinastia florio continua a prosperare ma anche di come affronterà un periodo difficile della storia italiana e siciliana il romanzo mostra come i florio siano stati in grado di costruire la propria fortuna ma anche come questa fortuna gli abbia ressi una famiglia di potere influente ascesa possibile grazie a una combinazione di intelligenza coraggio e determinazione ma anche grazie alla capacità di legarsi alle sfere politiche e sociali dell'epoca ignazio è un uomo di grande disciplina e rinuncia dotato di una notevole capacità imprenditoriale è riuscito a far crescere il patrimonio della sua famiglia dall'altra parte c'è ignaziddu giovane e spensierato che eredita tutto ciò che suo padre ha costruito e ha paura di essere schiavo del nome di famiglia e così cerca il piacere e non ascolta la voce del dovere portando così la famiglia la rovina poi ci sono le donne che hanno un ruolo importante e c'è la moglie di ignazio giovanna che è una donna ostera e misurata e che ha accettato le menzogne del matrimonio e si è rassegnata a vivere con le briciole dell'amore franca invece che è la nuora di giovanna una donna di grande stile e bellezza che ha fatto della sua eleganza e del suo glamour una corazza tuttavia dietro la sua fama e i suoi gioielli franca nasconde un profondo dolore e soffre in silenzio l'inverno dei leoni ci presenta una senciglia sconvolta dalle tensioni politiche e sociali con un'atmosfera dense di intrighi e colpi di scena nel romanzo l'autrice si concentra sulle relazioni tra i membri della famiglia florio che che devono affrontare le difficoltà economiche politiche e sociali dovute all'incapacità di ignazio di gestire e mantenere il patrimonio familiare i personaggi sono descritti magistralmente e si trovano a lottare contro le proprie paure e propri demoni interiori in un'atmosfera tesa e incerta attraverso il libro l'autrice affronta temi come l'amicizia l'amore la solitudine mettendo luce quando le relazioni umane siano difficili e complesse da navigare i personaggi descritti sono credibili in tutte le loro emozioni e la narrazione è coinvolgente con un forte attenzione ai dettagli storici riesce a catturare il lettore con una narrazione che racconta il lento declino della famiglia florio trasportandola in un'epoca passata tuttavia nonostante la sua innegabile bellezza l'inverno dei leoni sembra perdere parte della magia presente nel primo libro della saga i leoni di sicilia perlomeno è quello che ho avvertito io un lento declino un po come la famiglia florio e così siamo giunti alla fine del nostro viaggio letterario nel tempo scandito dai giorni di marzo i libri che ho condiviso con voi sono solo alcune delle molteplici voci che si sono levate nel silenzio per incantarmi farmi sognare farmi compagnia durante le lunghe ore di solitudine spero che le storie che vi ho raccontato abbiano risvegliato in voi la voglia di immagervi in nuove letture in nuove avventure la bellezza dei libri sta nella libertà che ci regalano nella possibilità di scegliere infinite strade da percorrere vi aspetto al seguito di questo video alla parte 2 quando condividerò altre letture e nuove emozioni nel frattempo vi auguro buona lettura e a presto il viaggio non finisce mai veramente un abbraccio a presto